La povertà più grande che c'è nel mondo non è la mancanza di cibo, ma quella d'amore. C'è la povertà della gente che non è soddisfatta da ciò che ha, che non è capace di soffrire, che si abbandona la disperazione. La povertà di cuore, spesso, è più difficile da combattere e sconfiggere.